Mattinata dedicata allo scambio d'aguri, quello di Erna in Curia, verso le 11.30 il Vescovo ha ricevuto la giunta municipale guidata dal sindaco Sbuarina per un incontro cordiale nel corso del quale sono stati trattati alcuni temi di attualità. Richiamo alla corresponsabilità perché proprio esattamente da noi, vuol dire, nel mondo della medianità, nel mondo della politica e dell'amministrazione, potremmo aggiungere, nel mondo della famiglia e nel mondo della vita religiosa, ecclesiale, se abbiamo questa concordia, ognuno per la propria parte, riusciamo a dare una spinta culturale molto positiva. Se invece noi remiamo contro l'uno contro l'altro, allora evidentemente la gente rimane stordita, non capisci più niente, e non contribuiamo al bene essere e alla pace della nostra gente. Quindi vuol dire, ognuno faccia la sua parte al meglio di sé, con senso di corresponsabilità. Ad un riferimento anche a situazioni familiari che sono a rischio proprio di implosione, a causa della difficoltà economica. Sono situazioni di disperazione vera e propria, quindi come le dice di implosione, perché non soltanto non sanno come arrivare alla fine del mese, partono all'inizio del mese e sono nella miseria. Spesso si agganciano ai loro genitori anziani, con le loro pensioni. Queste situazioni sono allucinanti e noi, ricca Verona, non possiamo fare finta che non esistano. È vero che hanno il pudore di non presentarsi, di non ostentarsi, però ci sono e sono situazioni da prendere in mano, specialmente attraverso la Caritas, o anche il Comune. I Comuni possono fare tantissimo per evitare queste implosioni. Un incontro quello di oggi che va al di là del puro atto formale. Sì, non è stato proprio niente di formale. È stato bello, è stato sentito, è stato profondo negli scambi degli auguri, ma si sono dette anche delle cose importanti riguardo la famiglia, riguardo il tema per esempio del povero bambino su cui stiamo lavorando, che è sulle cronache di tutti i giornali locali e nazionali, ma anche sulla responsabilità che deve avere un'amministrazione, una diocesi, la comunicazione stessa e tutto che vada nella direzione del bene comune e della crescita di questa comunità. Subito dopo questo incontro, il Vescovo ha partecipato a un momento di preghiera, riflessione, nonché scambio di auguri, con quanti sacerdoti, consacrati e laici operano nel contesto della curia, anche per ricordare l'importanza del ruolo svolto da sascuno. Oggi facciamo questo grande incontro ai nostri operatori per ricordare a loro quanto sono importanti a livello del servizio, un servizio fatto con competenza, ma anche con tanta e tanta umanità.